la qualità dei cibi e dei vini naturalmente viene esaltata se la tavola è impreziosita da decori raffinati o come giustamente vengono definiti nel logo di villeroa e boc dalle arti della tavola anche per villeroa e boc una delle aziende internazionali di maggiore tradizione è stata fondata nel 1748 sono state presentate al macef importanti novità e altre sono in procinto di essere lanciate sul mercato nella continua ricerca di innovazione tecnica estetica e di strategia espositiva che nulla lascia al caso villeroa e boc è stata fondata nel 1748 e quest'anno celebra 260 ed è stato dato un titolo a questo anno innovazione innovazione perché villeroa e boc quest'anno presenta un nuovo brand una nuova marca e che si chiama vivo villeroa e boc vivo è un nome chiaramente ispirazione latina facile da pronunciare a un qualche assonanza con villeroa e boc una nuova forma giovane interessante impilabile facile da usare è un design semplice istintivo immediato che presenta in fondo due forme una dentro l'altra sempre con un andamento circolare molto facile molto morbida molto armoniosa è tarata sull'uso soprattutto alberiero in modo da essere costruita con una concezione veramente di uso continuo costante senza senza doversi porre il problema beh lo posso sbeccare rompere succederà qualcosa assolutamente un materiale formidabile a tutti i punti di vista primo mercato di esportazione in cui viene presentata la linea vivo villeroa e boc abbiamo scelto mace abbiamo scelto mace perché secondo noi la rispondenza di mace come seconda grande fiera mondiale dal punto di vista dell'interna solidazione e dell'importanza rappresenta per noi un punto d'arrivo molto molto importante non tanto per premiare il mercato italiano quanto per effettivamente dare un messaggio a tutti i mercati di esportazione l'accuratezza delle forme degli accostamenti di colori che contraddistingue la produzione di villeroa e boc consente per ogni linea da quelle classiche a quelle più giovani un'interpretazione dell'ambiente casa sempre di grande eleganza ed originalità ma cioè noi presentiamo per la prima volta un inizio di un concept altamente direi rivoluzionario si chiama urban nature e rappresenta un passo avanti proprio nell'evoluzione verso lo stesso modo tradizionale di stare a tavola sovrapponendo pezzi e impostando una logica totalmente nuova e rivoluzionaria ma non per questo meno piacevole presentiamo poi estensione di gamma in tutti i sensi la ripresa di un decoro storico di cui si vendettero milioni e milioni di pezzi che si chiama accapulco trasferito nelle sue linee essenziali su una forma modernissima come new wave da cui ci aspettiamo un grandissimo successo il nuovo programma natale il nostro progetto natale ormai è noto in tutto il mondo e abbiamo addirittura gente e consumatori che ci scrivono a luglio giugno per sapere quando uscirà il nuovo progetto natale villeroa e bota che ormai sta spopolando presentiamo sulla forma new wave un nuovo decoro che si chiama samara ed è molto interessante perché riprende alcune idee diciamo da un modo di vivere il tessile in un certo senso e dal modo di ristampare i decori cashmere e tutte queste e tutte queste decorazioni che stanno tornando decisamente di attualità noi abbiamo trasferito tutto questo su una boncine su una porcellana e il risultato è stato devo dire molto e molto interessante il mercato penso lo premiava grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti